ospiti di questa edizione digitale diffusa di ferra di san martino di chieri due maestri del gusto due aziende maestri del gusto due nuovi maestri del gusto quindi siamo felicissimi di averli invitati quest'anno è appena diciamo stata rilasciato l'elenco dei maestri del gusto per il prossimo biennio ci sono tanti nuovi ingressi un progetto ideato e gestito la camera di commercio di torino molto importante a cui gli artigiani di eccellenza in questo territorio tengono molto e quindi ben felici di poter presentare due nuovi ingressi parliamo di camellia il tempo del tè e siamo con Ezio Bonino che rappresenta anche un'azienda familiare con le sue sorelle con Donata Umbretta e siamo a torino in via catania e invece alla mia sinistra con la pasticceria di simone vercellina a villardora e siamo appunto proprio con simone che è giovanissimo ma che ha intrapreso questa avventura di aprire una pasticceria a suo nome tra l'altro e quindi è stato anche premiato allora cominciamo con con Ezio insomma raccontaci un pochino come è nato sono nel 2015 questa realtà questo bellissimo negozio e quindi il tè sicuramente ma immagino anche altro a contorno del tema diciamo che l'avventura iniziata chiaramente da una grande passione per il tè che risale all'infanzia e quindi diciamo alle nostre origini condivisa che prima era solo un momento diciamo conviviale o una ricerca durante i nostri viaggi e poi è diventata l'idea di un progetto lavorativo abbiamo aperto nel 2015 quindi sono cinque anni abbiamo avuto un buon riscontro anche se chiaramente l'italia forse non è il paese del tè più il paese del caffè però diciamo che abbiamo avuto parecchie soddisfazioni sia da parte di persone che già conoscono e amano il tema anche da parte di persone che si avvicinano e scoprono insieme a noi il mondo del tè che è molto vasto e non è solo un'esperienza diciamo di gusto ma è anche un'esperienza conviviale un approfondimento in storie culture anche geografie lontane da noi so che avete fatto una scelta anche coraggiosa da un lato ma qualitativamente premiante che quella del tè sfuso diciamo di una viaggio come dicevamo no all'interno di questa geografia di estremo oriente dedicata appunto al tè e poi anche all'oggettistica collegata no sì perché è chiaro il tè sfuso è meglio e anche rilascia meglio le sue proprietà e dei suoi aromi e allo stesso modo accanto a un buon tè ci vuole anche diciamo l'oggetto giusto con cui prepararlo al meglio facendo sempre attenzione a temperatura dell'acqua ai tempi di infusione diciamo tanti piccoli accorgimenti che fanno sì che anche chi pensava di non amare te poi inizia ad avvicinarsi ad apprezzarlo se io volessi assaggiare un tè veramente straordinario che avete diciamo nella vostra selezione che cosa mi consiglieresti qualcosa ovviamente magari raro particolarmente ultimamente abbiamo trovato un tè del vietnam un tè bianco che viene raccolto nelle foreste del nord sono poste abbastanza inaccessibile ai confini con la cina e sono delle gemme molto particolari si chiama gli abate viola e oltre a essere molto difficile da trovare bello da vedere e anche molto dolce e anche abbastanza facile da preparare perché si fa con l'acqua molto calda se uno diciamo sgarra anche i tempi di infusione non succede nulla per cui diciamo che è un tè che può essere apprezzato da tante persone qualcosa di esclusivo di elitario assolutamente bene però questo denota veramente questa grande passione anche ricerca non che credo che sia che contraddistingua insomma la vostra la vostra attività passo con simone che appunto tra l'altro molto giovane da nome alla sua pasticceria perché mi pare raccontami tu da qualche anno è intrapreso questa avventura con anche un po di coraggio insomma però mi pare che poi ti stia supportando anche la tua famiglia raccontami come come è avvenuta insomma questa scelta e dunque anche a me nasce con una passione lontana che era per la cucina in generale passata poi alla pasticceria sperando di restringere il campo di apprendimento e scoprendo poi che mi ero assolutamente sbagliato il campo è largo uguale se non forse anche di più però ormai la strada insomma era stata intrapresa e ho deciso di approfittare di un'opportunità che mi si è presentata di aprire queste attività inizialmente da solo poi piano piano sono riuscito a tirare dentro anche mio fratello che è entusiasta e adesso abbiamo anche un dipendente che lavora con noi abbiamo tanti progetti e cerchiamo di svilupparli il più in fretta possibile. Tu hai oggi 29 anni quindi è stato 5 anni fa quindi giovanissimo ma com'è che uno tu non avevi studiato diciamo fatto studi in istituzione alberghiero ma tutt'altro com'è che uno improvvisamente decide di fare questo salto insomma? Dunque allora io ho vissuto questa esperienza e lo dico a tutti i ragazzi che vengono da me e anche il dipendente che c'è adesso e i dipendenti che abbiamo avuto in passato che basta veramente tanta 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 buona volontà. Io mi sono messo a lavorare per altre persone l'ho fatto per 5 anni con una determinazione molto molto forte e vi confesso il nostro ultimo dipendente si è presentato da me che era un falegname e oggi è un pasticciere che lavora per uno dei migliori cioccolatieri del mondo quindi davvero veramente basta una ferrea volontà imparare si impara bisogna trovare chiaramente i maestri giusti quelli che hanno voglia di insegnare che hanno voglia di aprirsi agli altri perché anche questo purtroppo il nostro mestiere non è sempre così però insomma veramente basta un po' di volontà e uno ce la può fare. E com'è che si diventa maestri del gusto? Perché insomma credo che tanti ambiscono diventarlo ma insomma ci sono vari passaggi di verifica di dire che è necessaria veramente una qualità e una professionalità non comune per ottenere questo riconoscimento. Hai detto le parole giuste qualità e professionalità. La qualità bisogna sceglierla bisogna essere in grado di sceglierla bisogna decidere di intraprendere quella strada che non è semplice perché richiede sempre chiaramente nelle materie prime grandi investimenti e capacità nella trasformazione di queste ultime però è fondamentale e la qualità penso sia la cosa che ci ha ripagato di più il giorno d'oggi. La professionalità che non sta solo nel saper fare il nostro mestiere ma purtroppo è una cosa che viene molto sottovalutata oggi anche nelle nostre personalità. Nella gentilezza che sicuramente è un'arte che ci contraddistingue. Ci sono tantissime attività, tantissimi negozi che probabilmente hanno tanta qualità ma non hanno questa personalità positiva. Bisogna saper comunicare al cliente con il giusto approccio. Credo che sia un messaggio positivo. Parliamo proprio del prodotto a questo punto. Tu ci hai portato un tè particolare e vediamo anche l'infusione del tè, diciamo così ci dai anche le dritte giuste dove deve avvenire. Allora questo tè che ho pensato di prepararvi è un tè nero giapponese. Diciamo il Giappone è più conosciuto per i tè verdi però negli ultimi anni ha ripreso anche la produzione del tè nero. Questo in particolare arriva da Yakushima che è un'isoletta tropicale nel sud del Giappone ed è un blend di due cultivar diversi, Yabukita e Yutaka Midori. Yabukita è la cultivar più utilizzata in Giappone anche perché è una cultivar molto resistente quindi rende anche bene al nord dove fa più freddo e dove c'è anche il rischio di gelate. Queste teiere si chiamano Chiusu ed è particolare perché ha un filtro interno quindi è molto comodo da gestire, non richiede ulteriori colini. Ho versato il tè e adesso metto l'acqua. L'acqua si è raffreddata nel frattempo mentre parlavamo anche perché noi questo tè lo prepariamo a 80 gradi in modo che esca di più la parte fruttata, aromatica. Si può anche fare con l'acqua più calda, magari diventa un po' più astringente, un po' più tannico lì è anche una questione di gusti personali. Come tempi di infusione diciamo che va un po' a gusto personale, due, tre minuti, non di più perché poi escono le note un po' più amare e poi tra l'altro la chiusa è molto facile da usare perché si può tenere con una mano sola per cui diciamo non ci si scotta, non si versa e in genere versano anche bene. Adesso il tè è ancora un po' chiaro. Sai cosa facciamo? Lo lasciamo riposare un attimino, no? E così nel frattempo, a parte avevo la curiosità di chiederti anche, insomma, ultimamente si sente parlare molto di tè verde e poi questa geografia che citavamo, insomma, dalla Cina al Giappone ma anche paesi che si affacciano, diciamo, che non erano, diciamo, quelli tradizionali. Quindi faccio una velocissima carellata di quello che si può trovare. Ma allora, chiaramente il tè è Cina, innanzitutto è la patria del tè, ma anche Giappone dove è arrivato qualche secolo dopo e chiaramente si è sviluppato in modi diversi, sapori diversi, tecniche di lavorazione diversi. E India, per il Darjeeling, per i tè neri della Sam, però negli ultimi anni, diciamo, sono entrati nel mercato perché c'erano già i tè del Vietnam, i tè della Thailandia, i tè dell'Indonesia e anche i tè africani, che una volta erano tè da bustina, diciamo, mentre negli ultimi anni stanno investendo sia nella qualità che anche nella diversificazione delle produzioni. Si produce anche tè bianco, anche perché il terroir africano è ottimo per il tè, soprattutto dal punto di vista climatico, Kenya, zona del Kilimanjaro, dove comunque c'è una forte escursione e quindi, diciamo, poi c'è anche il Sud America volendo, però è agli albori, però adesso fa ancora solo dei tè, diciamo, da grande produzione. Però diciamo, mi sembra importante che si torni a parlare di terroir, anche per il tè, quanto hai detto, citato con un po' di disprezzo quasi, di tè da bustina, perché appunto, però questo denota come il fatto che un tè sfuso con una ricerca come quella che voi fate, insomma, è altra cosa, no? Sì, diciamo che, ma è anche solo una questione tecnica, nel senso che il tè lasciato libero nell'acqua rilascia meglio le sue proprietà, il suo sapore, il suo profumo. Costretto in una bustina, anche il tè più buono non riesce a rilasciare allo stesso modo di un peccoglio. Senti, mentre lo lasciamo riposare ancora un minuto, passo con Simone. Allora, tu hai portato anche prodotti anche molto diversi. Partiamo da quello che mi dicevi caratterizza forse di più la vostra pasticceria, che è la riscoperta del Mignon Piemontese. Quindi è una grande tradizione, che peraltro richiede una grande manualità e creatività, no? Certo, sì, e tanto tanto tempo anche quello, perché chiaramente quando parliamo di mezzo chilo di baste, possiamo mettere quattro pignole, oppure ne possiamo mettere venticinque, e questo chiaramente fa molto la differenza. Bisogna anche fare una gran varietà, noi facciamo più di 30 varietà, proprio perché è un numero tale, su un vostro chilo noi mettiamo circa 70-80 pignole, pignole e pasticci diversi, insomma, quindi anche lì la varietà è molto importante. Poi cosa hai portato? Vedo due torte, una di grande tradizione, ma poi stai facendo anche tanta innovazione. Sì, l'innovazione è molto importante, noi abbiamo deciso di prendere i prodotti un po' più tradizionali, per esempio la Persipien, la pesca ripiena con amaretto e cioccolato, rivisitarli e riproporli in versione torta, in versione un po' più moderna. Quindi abbiamo portato una delle nostre torte di punta, che è una base in pan di spagna, una mousse al cioccolato amaretto fondente, e poi ha un inserto di pesche ed è ricoperta con una glassa specchio al cacao. E invece qui abbiamo un classico, una torta di nocciole. Chiaramente, torta di nocciole piemontese, le nocciole noi idranno in Piemonte, come i pasticcini sono molto sacre, facciamo tantissimi prodotti legati alle nocciole, questo è il più classico, in assoluto. Questo è il più classico e tra l'altro ha una caratteristica che lo rende anche molto moderno, il fatto che sia senza farina, quindi un dolce di fatto gluten free, insomma, in qualche modo. Questo incontra molto, non credo, le esigenze del pubblico di oggi, mi pare. Sì, certo. Quello è un campo che stiamo esplorando, esploriamo da qualche mese e siamo convinti di portarlo avanti, quello del gluten free e dell'intolleranza in generale. Chiaramente noi nel nostro laboratorio non possiamo avere garanzie di questo genere, ma abbiamo intenzione anche di aprire altre realtà, cercando di riproporre le stesse cose, la stessa qualità in versione gluten free. Bene, allora, è pronto il tè? Sì. Allora, vedete come siamo stati bravi, abbiamo fatto il tè con i pasticcini, è l'ora del tè anche, insomma, quindi direi che è tutto perfetto. Ma in estremo rinte il tè non si vede i pasticcini, o sì? In realtà sì, ci sono sia dolce e salato che accompagna il tè, è difficile che venga bevuto da solo, poi dipende anche dal tipo di tè, certi che sono così delicati e leggeri che richiedono di essere bevuti senza un accompagnamento, altri invece accompagnano bene sia il dolce che il salato. E quindi questa ormai tradizione antica, insomma, di quanto nella civiltà occidentale si è conosciuto questo infuso, quindi è diventata una tradizione poter unire un pasticcino, magari un mignon appunto, che si presta particolarmente bene con un buon tè, diciamo che direi che qui abbiamo fatto veramente la perfezione di un pomeriggio, mi pare. Allora, io vi ringrazio veramente tanto per essere stati con noi, vi faccio ancora i complimenti per questo inserimento tra i maestri del gusto, credo che ovviamente sia meritato, per cui con Camelia al tempo del tè siamo a Torino in via Catania 24, quindi andate a trovare, perché insomma Natalia si avvicina, direi che un'idea regalo può essere sicuramente un buon tè con qualche oggetto in particolare. E la stessa cosa vale per la pasticceria di Simone Vercellina a Villardora, per cui anche con lui naturalmente i complimenti per questo ingresso tra i maestri del gusto, particolarmente mi fa piacere anche perché ho un'età così giovane, insomma veramente è un augurio molto forte per il futuro e quindi grazie, complimenti ancora, grazie ai maestri del gusto della provincia di Torino, Camera di Commercio di Torino per Fiera di San Martino di Chieri in edizione digitale.